Mentre la maggioranza procede in ordine sparso, Forza Italia è leale al patto sottoscritto con Renzi che non prevedeva l'emendamento riferito alla parità di genere. Personalmente non credo che la parità di genere sia fermi per legge, credo piuttosto che sia il frutto di una battaglia culturale. La vera quota che serve in Parlamento è la quota del merito, della competenza e dell'impegno.